Questo ci incoraggia molto anche a seguito di una disposizione che ho voluto fare per superare questo periodo pandemico di riaprire questi weekend, tutta la rete museale, parliamo della rock dei rettori con il museo post risorgimento il nostro museo del Sannio che sta per celebrare i 150 anni di istituzione che conserva 3.000 anni di storia dal museo egizio, i sanniti, i romani, la parte loncobarda e anche una parte contemporanea da Sant'Ilario che guarda in maniera virtuale l'arco di Traiano e questo è il nostro grande patrimonio come anche il chiostro di Santa Sofia, Santa Sofia stessa e i dati ci incoraggiano ci sono state quasi mille visitatori, c'è voglia praticamente di recuperare non solo quello spazio che ci è stato un poco confinato dal covid ma soprattutto la scoperta delle nostre tradizioni della nostra storia, della nostra cultura